pittore fiorentino masaccio nonostante la sua breve vita che per lui finì tra i 26 e i 27 anni provocò una vera rivoluzione nella pittura è ritenuto insieme ai suoi amici leon battista alberti brunelleschi e donatello uno dei padri fondatori del rinascimento il suo vero nome era tommaso di sergio vanni di mone cassai e divenne masaccio perché secondo vasari era così profondamente preso dall'arte da non dedicare attenzione alle vicende del mondo e tanto meno al modo di vestire masaccio divenne membro della corporazione dei pittori a firenze che all'epoca rientrava nell'arte dei medici e degli speciali nel 1422 ma non si sa nulla del suo percorso di formazione per un periodo lo si ritenne allievo di masolino da panicale ma secondo molti oggi questa teoria è da accantonare il primo lavoro a lui attribuito è il tritico di san giovenale che rivela già uno stile tutto personale masaccio infatti fu il primo a sfruttare luce e colore per rendere i propri lavori più imponenti si allontanò dai caratteri dello stile gotico per cercare un approccio più naturalistico l'espressività che seppe dare ai volti e alle posture fu rivoluzionaria l'artista si ispirò a giotto nella solennità dei sentimenti e nella grandiosità delle forme i suoi straordinari risultati erano basati anche sulla maestria nel campo della nuova scienza della prospettiva e sull'uso di un'unica e coerente fonte luminosa per definire la struttura dei corpi e dei drappeggi masaccio lasciò ai posteri tre grandi opere nelle quali aveva enunciato i suoi principi innovativi un politico per la chiesa del carmelo a pisa oggi disperso in vari musei un ciclo di affreschi realizzati in collaborazione con masolino presso la cappella brancacci in santa maria del carmine a firenze un affresco della trinità in santa maria novella sempre a firenze l'affresco della trinità segna il primo uso sistematico della prospettiva lineare coloro che lo videro al tempo pensarono che masaccio avesse scavato una volta nel muro tanto il dipinto creava l'illusione della tridimensionalità il fratello minore di masaccio giovanni di ser giovanni fu anche lui pittore conosciuto con il soprannome lo scheggia forse a causa della sua figura longilinea o a un legame con la falegnameria dato che il nonno fabbricava scatole di legno e in effetti l'artista stesso si dedicò spesso alla decorazione di oggetti come cassoni ed eschi da parto invita masaccio ebbe il tempo di costruirsi solo una modesta reputazione e molti fiorentini suoi contemporanei rimasero indifferenti davanti alle novità della sua arte ma è altrettanto vero che egli fu di grande ispirazione per i maestri della generazione successiva tra cui beato angelico piero della francesca e filippo lippi l'artista si trasferì a roma nel 1428 lasciando incompiuti alcuni lavori fiorentini ma la morte lo colse all'improvviso era la fine del 1428 secondo una leggenda fu avvelenato da un pittore rivale geloso del suo talento se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao ciao